Eccoci e bentornati sul mio canale! Nuovo video di news su Call of Duty Black Ops 3 Iniziate subito a supportare il video con un mi piace ed iscrivendovi al mio canale e quindi partiamo! Oggi torniamo a parlare nuovamente dei personaggi di Call of Duty Black Ops 3 modalità Zombies Direttamente dal profilo Twitter di Call of Duty infatti arriva la biografia di un altro dei 4 personaggi presenti nella modalità E nella storia Zombies di Call of Duty Black Ops 3 Abbiamo visto in questi giorni Tank Dempsey, abbiamo visto Edward Richtofen, abbiamo visto Nikolai Belinsky E oggi analizzeremo la storia di Takeo Masaki Così ci prepariamo al meglio per la mappa Setsubu Noshima che arriverà il 19 aprile su PlayStation 4 con il DLC Eclipse E il capitano Takeo Masaki proviene da una famiglia nobile che per decenni ha diligentemente servito l'imperatore Dopo gli eventi di Dersendrache il senso incontrollabile di lealtà di Takeo verrà nuovamente messo alla prova Mentre combatterà al fianco di Tank Dempsey Nikolai e Richtofen nel tentativo di garantire un futuro migliore Fatemi sapere che cosa ne pensate di Takeo Masaki che è uno dei miei personaggi preferiti della modalità Zombies Anche se quello proprio in assoluto come vi dico sempre Nikolai Belinsky E ovviamente rimanete sintonizzati sul mio canale Youtube e sul mio sito internet Che potete sempre raggiungere con il link in descrizione per tutte le ultimissime notizie del mondo di Call of Duty Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale Grazie a tutti